Questo episodio di Loki è veramente spaccato, ragazzi! Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, continuiamo a parlare di Loki, siamo alla quarta puntata, al quarto episodio di sei episodi totali. Si entra davvero nel vivo questa volta, ci sono voluti ben quattro episodi ma ce l'abbiamo fatta a entrare nel vivo, ci sono stati un sacco di risvolti, si è premuto finalmente sull'acceleratore, il titolo di questo episodio è cosa ha causato l'evento Nexus, qualcosa del genere, scusate se non lo dico in modo preciso, cercherò di fare il meno spoiler possibile nei primi minuti per poi concentrarci sullo spoiler più spudorato per poter anche speculare un po' su quello che ci sarà nel futuro di questa serie della Marvel Cinematic Universe. Allora, l'episodio finalmente, come ho detto, accelera un pochino, iniziano un po' a scoprirsi alcuni vasi di Pandora che finalmente ci mostrano che avevamo solo speculato noi all'inizio su tutto quello che poteva esserci dietro, finalmente iniziamo a intravedere qualcosina, non mancheranno i colpi di scena, anche lì finalmente dei veri e propri colpi di scena, colpi di scena alla Marvel, colpi di scena alla Avengers 1 di Joss Whedon, ci saranno cose che ci faranno saltare sulla sedia. Questo episodio è forse il migliore, il più rappresentativo, anche perché comunque riesce finalmente a farci capire qualcosina, riesce a farci capire finalmente dove si sta andando. Ci mostrano finalmente un pochino del passato di questa Loki chiamata Sylvie, ci mostrano effettivamente come si è capito dalla seconda puntata in poi che basta davvero nulla per diventare una variante, basta davvero nulla per generare un evento Nexus, basta davvero nulla perché i Time Keepers, i custodi del tempo, si appropriano della vita di qualcuno, di qualche povero malcapitato, per toglierlo di mezzo e far andare avanti in modo la sacra linea temporale come l'hanno stabilita loro. Ed è qua che si vede l'ingiustizia, l'ingiustizia vissuta in prima persona da Sylvie. È questo che, al contrario di quanto poteva sembrare col primo episodio, che un evento Nexus fosse davvero incredibile, come un Loki che ruba il Tesseracta in una linea temporale dove non avrebbe dovuto farlo, sembrava davvero una cosa eclatante, una diramazione temporale da questo punto di vista. Invece no, invece è finalmente confermato che qualunque stupidata, uno starnuto fatto in una direzione piuttosto che in un'altra, cambia le possibilità come ci insegnava anche il film Sliding Doors con Gwyneth Paltrow, che se trovo vi metto qua in descrizione, cambia la linea degli eventi e pare che i custodi del tempo non siano semplicemente custodi, ma intervengano per rompere le scatole a chi prende una direzione diversa da quella che loro vogliono. E quindi sì che si parla di libera arbitrio e quindi sì che si parla anche di perché una direzione piuttosto che un'altra cosa favorisce, evita davvero uno scontro di multiversi o favorisce qualcuno, qualche eminenza grigia che dobbiamo ancora vedere. Ragazzi, o più di così, non posso dire senza spoilerare totalmente l'episodio e quello che penso che vedremo anche nei prossimi episodi, quindi se non avete ancora visto l'episodio andatelo a vedere, ci rivediamo qui, insegnatevi il promemoria su dove siete arrivati, ci rivediamo qui più tardi quando l'avete visto, così speculiamo insieme su quello che vi ha dato questa puntata. Pronti? Spoiler tra 3, 2, 1. Ragazzi, mamma mia, mamma mia, incredibile. Ci sono rimasto malissimo per Mobius, mi è davvero, davvero dispiaciuto tanto. Mobius è stato falciato da quella che dovrebbe essere, se non la sua migliore amica, addirittura di più una specie di liaison tamorosa che ha avuto in passato da Ravonna il giudice. È davvero orrendo come Ravonna sia un personaggio estremamente subdolo, cattivo, sia il vero cattivo finora di questa serie. È stato davvero orribile anche perché speravo davvero che una volta che Mobius avesse scoperto di essere una variante, negli ultimi episodi si sarebbe fatto un bel giro sulla sua moto d'acqua. E invece è stato falciato. Però è stato falciato anche Loki. E ragazzi, c'è una scena dopo i titoli di coda, mi raccomando. Spero non ve la siate persa. È stato falciato anche Loki, eppure nella scena dopo i titoli di coda vediamo che non è realmente stato resettato, annullato, non è morto, ma si trova da qualche parte. Si trova da qualche parte con altri Loki. Però non so se l'essere falciato in realtà significa essere teletrasportato da qualche parte in una sorta di inferno, in una sorta di hell, come lo chiama Loki stesso. Oppure sono stati gli altri Loki ad averlo salvato all'ultimo secondo. Questo non ci è dato saperlo. Gli altri Loki sembrano essere in una zona che ha una fotografia molto grigia, molto polverosa. Potrebbe essere quella New York con la torre degli Avengers distrutta che abbiamo visto nei primi trailer, potrebbero trovarsi lì, quindi in quell'apocalisse, e potrebbero aver salvato Loki. Vedremo cosa succederà poi nei prossimi episodi. Quello che invece ci è dato sapere dal punto di vista di Sylvie è che Loki, proprio mentre stava per confessare il suo edonistico amore verso la variante di se stesso, verso Sylvie, è stato falciato da Ravonna. E quindi Sylvie è arrabbiatissima al punto che non vuole nemmeno più uccidere Ravonna, non vuole resettarla, vuole usarla per scoprire davvero cosa c'è dietro. Perché Ravonna pare che sia l'unica in grado di dirci davvero che cosa c'è sotto. Perché come voleva si dimostrare da molte speculazioni, che tra l'altro io non condividevo, io credevo che i custodi del tempo esistessero. Molti di voi hanno scritto sull'internet, no, i custodi del tempo non ci sono, sono una copertura, sono una montatura, bla bla bla, c'è dietro qualcuno, c'è dietro Loki, c'è dietro Pinko Pallino. Qua vediamo qualcosa di vero rispetto a quello che si è speculato su internet, ovvero i custodi del tempo finalmente li vediamo, finalmente siamo faccia a faccia con i custodi del tempo, ma scopriamo che sono degli esseri robotici, degli androidi. fa anche verso all'episodio numero uno quando Loki dice e se fossi un robot e non lo sapessi quando passa nello scanner. Quindi chissà se i custodi del tempo sono un robot e non lo sanno oppure sono semplicemente degli animatronics. Perché come abbiamo visto nel momento in cui Silvia ha tagliato la testa a uno dei, a quello centrale, a uno dei custodi, gli altri sono andati un attimo in tilt. Quindi non sono entità separate, sembravano proprio un macchinario che si è distrutto, come se qualcun altro lo manovrasse. Bisogna capire se quel qualcun altro è Ravonna stessa che ne ha preso l'eredine a un certo punto o c'è qualcun altro ancora dietro che vedremo. Quel qualcun altro ancora dietro può essere appunto Kang il Conquistatore che potrebbe essere il nemico della nuova fase, della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Perché? Perché nei fumetti Kang il Conquistatore sta insieme a Ravonna, quindi Ravonna sarebbe un po' il luogotenente di Kang. Oppure, banalmente, tanti dicono potrebbe essere un Loki del futuro e ora che abbiamo visto che ci sono altri Loki in quell'apocalisse, perché no? Potrebbero sopravvivere tre di quei Loki e diventare i custodi nel tempo. Del tempo, ma non avrebbe molto senso onestamente. Ha più senso che sia qualcuno dietro che venga poi presentato come il nuovo nemico della fase 4. È molto bello che se fosse Kang perché poi dovrebbe essere anche il nemico di Quantumania. Quantumania dove Ant-Man e The Wasp combatteranno a quanto pare si parla del Regno Quantico che abbiamo già visto nel primo e nel secondo episodio di Ant-Man e Ant-Man and The Wasp. Nel terzo probabilmente ci sarà ancora di più il Regno Quantico nei fumetti nel Regno Quantico c'è una vera e propria città ed è una città dove vive Kang ed è a senso che la città dove vive Kang sia la TVA sia il luogo senza tempo. Perché? Perché quando si viaggia nel tempo come abbiamo visto in Avengers Endgame si passa dall'infinitesimale Regno Quantico quindi se ci deve essere un luogo fisico fuori dal tempo ha ragione e come si dice è verosimile che sia nel Regno Quantico e quindi tutto tornerebbe da questo punto di vista. C'è anche una strizzata d'occhio ai prossimi film Marvel che usciranno non mi riferisco solo a Doctor Strange il multiverso della follia a Spider-Man No Way Home che potrebbe avere i multiversi abbiamo aggiunto Quantum Mania ma ragazzi spiegherebbero finalmente anche il prossimo Blade perché dico il prossimo Blade? perché nel Marvel Cinematic Universe finora non ci sono stati esseri paranormali non ci sono stati vampiri ci sono stati persone potenziate da delle cose potenziate dalle gemme dell'infinito potenziate dal siero del super soldato potenziati da esperimenti andati male come il ragno che ha morso Peter Parker ma non ci sono degli esseri soprannaturali non ci sono neanche mutanti ma questo sconvolcimento della linea temporale potrebbe retro retrocreare vampiri e mutanti perché vampiri perché uscirà il film su Blade ma perché Mobius stesso dice abbiamo portato qui Kree abbiamo portato qui vampiri e perché tutta questa paura di questo semidio orfano quando nomina vampiri mi viene in mente che lo sconvolgimento alla TVA potrebbe fare in modo che i vampiri finalmente smettano di essere resettati della TVA ovvero nella nostra realtà nella realtà del Marvel Cinematic Universe i vampiri sono un'aberrazione sono delle varianti che non devono esistere quindi quando nasce o quando è nato il primo vampiro la TVA arriva e li resetta con la distruzione della TVA questo non succederà più appariranno i vampiri e successivamente quindi apparirà anche Blade quindi dovrebbero presentare anche Blade grazie a questo sconvolgimento della linea temporale potrebbe esserci la stessa cosa anche con i mutanti probabilmente nel Marvel Cinematic Universe spiegheranno la non esistenza dei mutanti con il fatto che la TVA non li volesse perché semplicemente nascevano diversi a differenza di chi si sottoponeva degli esperimenti può essere che distrutta la TVA oltre alla presenza di vampiri ci potrà essere anche la presenza di mutanti e questo potrebbe spiegare quanto meno l'esistenza di mutanti molto vecchi come il Professor X ma soprattutto come mutanti come Wolverine perché sarebbe se se non sarebbe se non scusate se non fosse importantissimo l'anzianità del Professor X e di Magneto lo sarebbe però per quanto riguarda Wolverine Wolverine è ultracentenario se ci fosse un Wolverine senza ricordi ma quarantenne non avrebbe tutto questo carisma tutto questo charme che si porta dietro il Wolverine originale il Wolverine fumettistico che poi abbiamo visto nella saga della Fox perché? perché con tutti quegli anni ha avuto modo di affinare le sue tecniche di combattimento di arti marziali ha avuto un sacco di storie di esperienze che non ricorda più ma che ci potrebbero mostrare come flashback quindi si perderebbe un po' di sostanza di Wolverine quindi chissà che non usino questo espediente della TVA per retconnare le cose nel modo in un modo molto carino tra l'altro in un modo molto originale no ma banale in realtà ma fatto in modo molto creativo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa puntata se vi ha fatto scervellare come ha fatto scervellare me a me è piaciuta sia la puntata di per sé mi è piaciuto tantissimo anche rivedere l'attrice che interpreta Lady Sif perché io l'adoro ovviamente mi è piaciuta anche se per una comparsata da nulla soprattutto alla luce del fatto che non l'abbiamo vista in Thor Ragnarok e che non la vedremo probabilmente nemmeno in Thor Love and Thunder quindi quantomeno l'abbiamo vista in Agents of S.H.I.E. l'abbiamo vista anche nella serie Loki meno male abbiamo anche scoperto che Sylvie non ha a un certo punto della sua vita cambiato persona cambiato sesso ed è diventata donna pare essere nata proprio come variante femminile pare essere proprio un Loki femminile il che è strano dal momento che era già a Asgard quindi è già stata adottata quindi non capisco questo è solo la sua esistenza l'essere una variante cioè i custodi del tempo non volevano che Odino crescesse una Loki femmina perché semplicemente è nata è stata adottata ad Asgard perché l'abbiamo vista che era ad Asgard stava giocando ed è stata portata via e hanno resettato la linea temporale come se la TVA non volesse che esistesse quella versione è molto strano non è che a un certo punto lei ha ha cambiato il suo aspetto per scappare dalla TVA come ha fatto Loki per scappare da Ragnarok ed è diventato Lady Loki no pare sia sempre stata una femmina quindi che la TVA volesse proprio resettare l'esistenza di questa Loki femmina per fare in modo che esistesse invece un Loki maschio non lo so forse la TVA sono sono tre maschi eterosessuali caucasici cisgender e non volevano una Loki femmina non lo so non lo so vedremo vedremo comunque è molto carino anche come alla fine di questo episodio Ravonna non ricordi nemmeno il motivo per cui hanno rovinato la vita a Sylvie ci sta perché potrebbero essere passati migliaia di anni per quanto ne sappiamo noi però il fatto proprio che quello che per Sylvie è importantissimo per un funzionario che sta svolgendo il suo lavoro sia una una scartofia in più sulla sua pila di lavoro è davvero impressionante questa cosa mi è piaciuta un sacco basta ho parlato fin troppo scrivetemi voi qua sotto cosa vi ha dato questa puntata se siete in hype per le prossime due adesso io ovviamente lo sono l'hype è tornato alla grandissima noi ne parleremo nella prossima settimana mentre tra due settimane per l'ultimo episodio vi avviso già che non riuscirò a farlo uscire di mercoledì perché sarò in vacanza uscirà di giovedì quindi mi raccomando non spoilerate arrivederci